A Morgani va in scena il big match dell'ottava giornata di fronte a un Forlì, desideroso del riscatto dopo il toffino esterno sul campo del Sasso Marconi nel turno infrasettimanale. E' un lentigione desideroso di non perdere la scena dei Rimini per la vittoria finale del torneo. La gara vede da subito i padoni di casa rendersi pericolosi dall'angolo verde, pennella per la testa di Rapai. La sfera termina sul fondo. La replica del lentigione è affidata alla combinazione tra Caprioni e Formato con l'ex barriolese che conclude a lato. I due continuano a divertirsi in tesa memoria e questa volta tra i direi gol c'è di mezzo De Gori a sventare il pericolo. Al quindicesimo però il lentigione sblocca la gara da punizioni di Staiti e arriva il colpo di testa vincente di Zagnoni che buca la porta di casa. 1-0 ospite. La replica del Forlì viene affidata a buono conto ma la sua conclusione si perde abbondantemente al lato. Mentre a Maducci, date le ultime due sfide con tanto di timbro finale in fatto di marcature, ci prende gusto chiamando la deviazione in corner Sorsi. All'entigione viene annullato poco dopo un gol ma l'azione merita di essere vista. La velocità con cui formato dialogo con Sanat mandando infine in porte a Capriotti per lo 0-2 ed applausi. Nella ripresa la combinazione vincente provano a trovarla Rapaia e Pera con l'ex decanattese che appoggia per l'ex Sassomarconi. Scambio di favori tra i due con il tiro finale di Pera che fa la barba al palo. Ma l'entigione è squadra che non perdona risultando omicidiale trovando in raddoppio questo cross di Saite con relative finale depositazione della sfera in fondo al sacco a cura di Stahiti. In tuffo il numero 23 batte per la seconda volta a De Gori. E gli ospiti vanno vicinissimi a Tris con questa iniziativa di Boalì che scarica in direzione ai Caprioni. L'attaccante con una puntata a calcetto trova il palo alla destra di De Gori. I Follì, perso l'entusiasmo iniziale, sceglie le soluzioni della distanza come il tiro da fuori aria di Rapaia. Nel finale prova di aprire i giochi Pera ma la sua conclusione risulta centrale. I padroni di casa sono anche sfortunati quando su questo colpo di testa il lentigione trova il proprio difensore a salvare sul linee di Porto un gol fatto sulla ribattuta Schirone non riesce il tapì vincente. Padroni di casa che ci provano su punizione ma lo stacco di testa di Endai termina alto. La gara si conclude con la vittoria all'inglese del lentigione sul campo De Forlì.